Buone notizie da Via Dettori nel quartiere Marina di Cagliari, chiusa dallo scorso gennaio per rischio crolli. A due immobili vicino a Piazzetta Savoia, fatti evacuare per questioni di sicurezza all'inizio dell'emergenza, è stato revocato l'ordine di sgombero. Il provvedimento permetterà agli studenti di una scuola di tornare tra i banchi e riprendere gli studi, aperti anche alcuni uffici privati che potranno riprendere a lavorare in sicurezza. Intanto procedono i controlli sia dal lato di Piazzetta Dettori che da quello di Piazza Savoia, mentre il sindaco Paolo Truzzo fa sapere che l'amministrazione ha già nominato l'impresa che coordinerà i lavori di verifica delle cause. Un'operazione che però dovrà attendere i lavori di ripristino della rete gas e la sua conseguente messa in sicurezza. Adesso si sta iniziando con l'impresa che ha individuato l'amministrazione comunale per, da un lato, togliere una parte dei ponteggi per poter iniziare i lavori e poi dall'altro incominciare ad aprire per poter verificare esattamente quali siano state le cause. Come sapete c'è un problema legato alla rete del gas da individuare bene per evitare che poi possa succedere qualcosa di peggio e poi l'impresa sarà in grado di operare.